ciao ragazzi sto seguendo il corso di samuele sciacca come creare un videogioco in quattro ore è molto bello talmente bello che ho deciso di provare a fare lo stesso corso ma in ambiente unity quindi vediamo vediamo come avviene e se vi piace vi ricordo che le immagini e i suoni non li ho fatti io ma li ho presi direttamente dal corso di samuele quindi le grafiche sono di holluk per il resto ho cercato di seguire passo passo quello che lui fa e replicarlo in ambiente unity laddove è possibile quindi vi lascio in descrizione il link al corso di samuele senza tanti indugi iniziamo